Buongiorno, oggi è il 3 ottobre, un modo insolito di commemorare l'Eccidio di Acerra. Ricordo a tutti che all'indomani delle quattro giornate di Napoli la furia nazista si abbatté sul popolo di Acerra. Popolo che combatté per la libertà, morirono circa 100 persone. Ebbene, in virtù di questo e di quella resistenza che il popolo di Acerra oppose, Acerra ebbe nel 1999 la medaglia al merito civile. Tutto questo è un obbligo morale di chi amministra, di chi rappresenta la città, ma di tutti i cittadini, ricordarlo e trasferire ai giovani, affinché loro sappiano cosa è accaduto, affinché loro ricordino quella pagina tragica per la città di Acerra e di quello che hanno combinato i nazisti. Trasferiremo questo ricordo tramite le scuole affinché gli Acerrani non dimentichino chi ha combattuto per la libertà. Trasferiremo questo ricordo e di sono stata opportune per la città di Acerra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.